Buon anno a tutti. Oggi prenderò una pausa dal Griefing per pubblicare un tutorial. Questo riguarda una metodica di mia ideazione per la trasformazione di una normalissima casa in una letale trappola per mob. Con questa struttura, estremamente poco costosa in quanto altro non è che il rifacimento di una già esistente, potrete avere un sacco di oggetti in un battibaleno tenendo il culo dentro casa vostra. Userò una mod stavolta. Ma solo per fare più in fretta. La prima cosa che dovete fare dopo aver costruito la casa è spianare una zona di tre blocchi tutta intorno e controllare che sia accessibile facilmente. Aggiungendo magari qualche blocco da usare come scalino. Poi procedete scavando un fossato profondo un blocco e largo due come mostrato nel video, tutto attorno all'abitazione. Dopo ciò, scavate per almeno altri quattro blocchi la parte più interna del fossato. Questa zona così creata sarà quella che annegherà i mob. Mentre lo scalino sovrastante sarà usato per alloggiare le sorgenti. Arrivati al fondo poi scavate un blocco lungo la verticale della casa. Da qui poi entrerà l'acqua nel seminterrato dell'abitazione, portando degli oggetti droppati dai nemici. Nel tornare in superficie distruggete i blocchi che usate per salire. Per entrare nell'abitazione ora dovrete costruire dei ponti che oltrepassino il fossato. Nel farli dovete progettarli in modo che questi non intralcino il flusso d'acqua. Perciò procedete come mostrato nel video, iniziando a costruire un livello sopra la cima del fossato e distruggendo il blocco del tetto sopra la porta per permetterne l'apertura. Per ridurre il rischio di cadere può essere utile largare i suddetti ponti e collegarli con opportuni scalini al territorio circostante. Per completare l'opera di muratura esterna, aggiungete due cubi di terra all'apice dei lati più lunghi del fossato, sullo scalino destinato alle sorgenti. Questi impediranno ai flussi d'acqua di incrociarsi, e faranno in modo che anche i mob che arrivano dagli angoli cadano nella trappola. Ora procediamo alla costruzione del seminterrato. È qui che gli oggetti droppati dai mob potranno essere comodamente recuperati. Uniche cose da tenere in conto per la costruzione di questa trattola, per ovvie ragioni, sono l'assenza di caverne sotterranee e che è incapace di uccidere i rami. Per il resto è adattabile a ogni territorio e bioma. L'acqua si trova praticamente ovunque, al contrario ad esempio dei cactus, della lava o del netrack, non richiede grandi quantità di materiali per essere costruita e vi porta tutto direttamente a casa. Per scavare il seminterrato procedete come nel video. Dopo esservi procurati delle scale a pioli, procedete scavando un buco profondo 5. Da qui allargatevi su tutti i lati con una stanza alta due blocchi, finché non trovate l'apertura all'esterno verso il fossato che avete scavato prima. Una volta finito lo scavo illuminate il tutto con delle torce. Nel piazzare le scale è buona norma lasciare un blocco dove l'acqua possa scorrere sotto la scala. Questo è utile per far convergere i flussi su un unico punto, specie per le case quadrate. Per rendere attiva la trattola non ci resta che piazzare le sorgenti d'acqua sul bordo del fossato come si vede nel video. Io userò le lastre fornite da una mod per fare più in fretta, ma voi potete utilizzare una fonte d'acqua infinita. Se non sapete come costruirla cercate uno dei tanti tutorial disponibili in rete. È importante inserire le sorgenti anche sotto i punti, per non lasciare buchi nel flusso d'acqua dove i mob possano accumularsi e sopravvivere. Fatto! Ora vi mostrerò anche come il sistema raccoglie gli oggetti, gettando qualche blocco nel water grinder. Per aumentare la capacità della trattola, di soffocare i mob è una buona idea piazzare alcuni cubetti di terra a mo di ponte lungo il fossato. Quando un mob ci cadrà dentro questi, gli impediranno di uscire nuotando. Neanche il tempo di finire ed ecco già la nostra prima cavia. Avanti dannato creeper. Perché non provi a polverizzarmi la casa? Mi sembra di sentire qualcosa che si lamenta provenire da fuori. Sì sì. È proprio il nostro ospite. Andiamo di sotto a goderci i suoi lamenti mentre crepa è a recuperare le sue spoglie. Dannato morto di fame. Non ha un cazzo, si vede che c'è crisi. Come ultimo suggerimento, consiglio di attirare i mod verso la casa costruendo al piano superiore o un balcone da cui lanciare frecce oppure una stanzetta per uno snow golem. Ricordatevi che lo snow golem muore nei biomi caldi e deve essere ben protetto dai ragni e dagli enderman. Usate una stanza alta al massimo due blocchi e confessure da cui il golem possa lanciare le palle di neve non più grandi di un blocco per un blocco, per impedire ai ragni di entrare. Con questo ho concluso. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima griffata.